Perfetto, proviamo a trasformarla in un rollover, un esercizio che si fa di solito a corpo libero, portando le gambe prima in alto, poi indietro. Andiamo a prendere questa volta la barra da sotto, la feriamo sempre a larghezza spalle, pieghiamo leggermente i gomiti, sempre come se fosse un push up, quindi con i gomiti in alto, solleviamo una gamba alla volta a tavolino. Partendo con le gambe a tavolino, le ginocchia sono unite e i piedi sono uniti, quando stendo le braccia, le braccia non fanno effetto di tenermi, ma fanno effetto di spingermi. Questa sensazione di spinta mi permette di arrotondare la parte bassa. Quando vado indietro, se riesco con i piedi in flex, dovrei incontrare la barra. Spingo per stendere bene gli ischi ocrurali, quindi spingo dei talloni, e quando riporto le gambe in alto con i piedi puntati comincio a snocciolare. Rallento la snocciolamento tenendo dall'addome, mi traziona, e quando appoggio il bacino devo ritrovare la mia squadra. Arco fisiologico, e mi raccomando, quando vado indietro comincio a flettere le braccia,